Mia moglie non stira, non lava e non cucina, un marito si lamenta, si rivolge al giudice e chiede il divorzio, va bene, e il giudice chiede il divorzio per colpa della moglie, ovviamente, chiede il divorzio per colpa della moglie, per non pagare gli alimenti, hai capito? Un marito dice al giudice, mia moglie non stira, non lava e non cucina, per cui io chiedo il divorzio con addebito alla moglie, alla moglie, va bene, ma il matrimonio mica si fa per queste cose qua, il matrimonio mica si fa perché tua moglie poi deve stirare, lavare e cucinare, non è forse detto e scritto che il matrimonio si fa per amore? Due corpi e una sola anima, non si dice forse questo? Si dice che è l'amore che spinge al matrimonio, no, è l'amore che spinge al matrimonio, non sono questioni banali come lavare, stirare e cucinare, perché per lavare, stirare e cucinare un uomo può fare da sé, non ci vuole mica la laurea per lavare, per stirare, per cucinare, non ci vuole mica la laurea, non ci vuole, sono cose molto banali, lavare, stirare e cucinare, molto molto banali sono, sono altre cose che non si possono fare da soli, le cose belle legate alla passione d'amore, è la passione d'amore che ti spinge al matrimonio, ha fatto bene il giudice, ha fatto bene il giudice, caro marito, a riproverarti, ti ha detto che queste cose ci fanno insieme, lavare, stirare e cucinare, ci fanno insieme, li fa la moglie, li fa anche il marito, ma anche i figli, anche i figli, si deve collaborare in famiglia, forse una volta, forse una volta, forse una volta il giudice ti avrebbe dato ragione, una volta, ma una volta, una volta le donne mica stavano sotto, mica stavano sotto, adesso c'è la verità, magari tua moglie lavora, magari è una professoressa di liceo, magari è un medico, perché l'Italia è piena di donne che sono medico, medico, medica, medica, ma magari è una donna poliziotto, capito, caro marito, lavare, stirare, rammentare, cucinare, sono cose banali, cose molto banali, tra l'altro al supermercato trovi già i cibi confezionati, tra l'altro, per lavare, stirare, rammentare, puoi imparare pure da te, sai? Mica ci si sposa per questo motivo, ci si sposa perché spinti dalla passione e d'amore, capito? Ha fatto bene, ha fatto bene, ha fatto bene quel giudice lì, è un giudice intelligente, è un giudice molto intelligente, e l'altra volta tu invece di sposarti prenditi, che so, una badante, una badante, una bella badante, che viene dalla Transilvania, dall'Ucraina, dalla Bielorussia o dalla Russia, ci sono di quelle belle badanti dell'Est, che sono pure laureate, che fanno tutti i servizi in casa, e il matrimonio è un'altra cosa, dietro al matrimonio c'è la passione e l'amore, la passione e l'amore non c'è niente a che vedere con lavare, stirare, rammentare, cucinare, ma che ci vuole a cucinare? Ma non ci vuole niente a cucinare, che tra l'altro si può anche non cucinare perché c'erano tutti i cibi preconfessionati al supermercato, sotto casa, va bene cari amici, questo poveraggio, anzi questa faccenda mi sembra tanto strana, mi sembra tanto strano questa faccenda, questo è un cretino poverino, un cretino, se avesse scoperto la moglie in flagrante adulterio, avesse fatto una foto, poteva andare in tribunale e chiedere il divorzio con addebito, con addebito, queste sì che sono cose importanti, queste sì che sono cose importanti, ma lavare, stirare, rammentare, cucinare sono cose banali, non ci vuole mica la laurea per farle, e poi non ci si sposa mica per queste cose, marito, mica ci si sposa per queste cose, ci si sposa spinti dalla passione d'amore, la passione d'amore, ed io Serafino Massoni della passione d'amore, ho parlato in questa mia opera storico-mitologica, capito marito? avete capito mariti? Avete capito mogli? Eccolo qua l'autore di questa opera storico-mitologica, guardatelo qua, che prima è stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici, e poi dopo aver vinto un pubblico concorso è diventato preside di ruolo sempre nei licei classici e scientifici, e questa è soltanto l'ultima opera di Serafino Massoni, e presto altre ne arriveranno. Ok ok cari amici, ricordatevi che ci si sposa soltanto perché spinti dalla passione d'amore, e della passione d'amore si parla in questa opera storico-mitologica. Ok ok ok!